E' stato inaugurato ieri pomeriggio il Museo Civico di Niscemi, situato all'interno dell'ex convento dei frati francescani minori, adibito successivamente a carcere mandamentale e poi ad ospedale. Il Museo Civico di Niscemi si è realizzato grazie all'azione sinergica di Lions Club, comune e centro di educazione ambientale e soprintentenza per i beni culturali di Caltanissetta. Il museo si estende in un'ampia superficie di 3.000 m2 e al suo interno conserva oltre 5.000 reperti donati da privati al Lions Club, già a partire dal 1988 e facenti parte della collezione del Museo della Civiltà Contadina e tantissimi facenti parte del Museo di Storia Naturale, collezionati dal Centro Educazione Ambientale. All'inaugurazione era presente anche il presidente della regione Musumeci. Grazie a tutti.